Ciao ragazzi, io sono Nicodine e sono ritornato con un nuovo video, una nuova sfida, incontri principali andiamo a completare Porto vs Sbenfica, mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi se non l'avete fatto e vamonos! I pacchetti, come ben sapete, ce le teniamo fino ai totti di tutte le sfide che facciamo voi comunque fatemi sapere quello che avete trovato dentro il pacco, se siete stati fortunati io spero almeno voi di essere fortunati perché io purtroppo con questi pacchi la mia fortuna è stata l'unica a trovare Kilian e purtroppo poi non ho trovato più niente questi sono i giocatori che uso per questa sfida prezzo basissimo come sempre ragazzi come vedete 600 ok, andiamo a ritirare il nostro pacchetto qui come potete vedere abbiamo 20 pacchetti, tra cui scambiabili, non scambiabili, un sacco di roba abbiamo anche il pacchetto Premium Tot che non lo apro e niente ragazzoli, io vi ringrazio come sempre e noi sicuramente ci vediamo con un prossimo ciao ciao ciao